Sono già 1.500 coloro che hanno partecipato alle visite guidate gratuite alla riscoperta di Pordenone, un'iniziativa di Rotary e Comune per i turisti e per i pordenonesi stessi. Visto il successo, gli itinerari sono stati aumentati. Non più due visite, ma quattro visite, quindi quattro percorsi differenziati che si terranno comunque tutti i sabati alle 11 con partenza qui dalla loggia del municipio. I tour sono condotti da visite guidate esperte. Il primo sabato del mese si scoprono i tesori nascosti del centro storico, il secondo la città attorno al Noncello, il terzo il municipio e il Duomo, il quarto Palazzo Richieri e le sue opere d'arte. Pordenone è una città molto bella, bisogna avere una consapevolezza delle ricchezze culturali, paesaggistiche, artistiche che abbiamo in città per sviluppare anche un modello pordenone da promuovere all'esterno. Sta crescendo la presenza turistica, offriamo non solamente la classica, ormette tradizionale, vitalità e effervescenza di Pordenone, ma offriamo anche un servizio professionale di visite guidate alla città. Quindi un quadro che si completa per consentire di amare, apprezzare e conoscere di più le bellezze del nostro splendido capoluogo. Le visite si integrano con altre iniziative turistiche e culturali. L'obiettivo è di promuovere un turismo di qualità, un turismo destagionalizzato, un turismo che in questo caso, con questa iniziativa, è la premessa ai percorsi turistici che partiranno in relazione all'organizzazione della mostra del Pordenone, si declineranno sul territorio, sul territorio del Friuli occidentale. Si può partecipare alle visite andando direttamente il sabato alle 11 alla loggia del municipio